inizia una nuova puntata di cronache e commenti il consiglio regionale visto dalle nostre telecamere settimanalmente andiamo a conoscere gli argomenti che vengono toccati nell'ultimo consiglio utile appunto regionale che si svolge presso il palazzo del Pegaso in via Cavour 4 a Firenze. Tra gli argomenti che andremo a vedere in questa puntata parleremo di temi toccati all'interno del consiglio regionale ma anche a margine del consiglio stesso e dunque come ogni puntata andiamo a vedere i temi principali con il sommario. Mozione sull'aeroporto di Peretola l'opposizione chiede alla maggioranza di decidere se procedere o meno con la nuova pista. Il ricordo in aula di Giacomo Maccheroni presidente del consiglio regionale dall'83 all'87 22 milioni di euro dal governo per la pandemia non spesi la maggioranza risponde all'opposizione. L'ultima seduta del consiglio regionale è stata caratterizzata dalla discussione sull'aeroporto di Peretola. È stata la mozione del consigliere d'opposizione Galli a chiedere alla maggioranza di prendere una decisione chiara sulla realizzazione o meno della nuova pista dello scalo fiorentino promessa da 30 anni e mai realizzata. Una mozione che sarebbe dovuta essere votata in aula. Il dibattito invece è stato rimandato in commissione. Un tema spinoso dibattuto da tutte le ultime legislature che non ha risparmiato botta e risposta fra maggioranza e opposizione. Nel 2009 quando sono entrato in politica a Firenze ero convinto decisamente convinto che l'aeroporto andasse messo in sicurezza perché così com'è sappiamo bene che comunque ha delle difficoltà a prestare servizi. L'atto che ho presentato oggi è che dopo 15 anni credo che qualcuno abbia bisogno di avere delle risposte e siccome si sta facendo uno scaricabarile da una parte all'altra e nessuno si prende e si assume delle responsabilità io credo che noi in qualità di consiglieri regionali in base alla risposta che ci è arrivata dalla commissione del ministero abbiamo un obbligo che è quello di disegnare il quadro di riferimento dell'area della quale stiamo parlando perché perché all'interno di quest'area non c'è soltanto l'aeroporto ci saranno degli interventi del piano strutturale di Firenze del piano strutturale di Prato ci dovrà passare la tramvia dovranno dovrà essere ampliato il polo scientifico dovrà essere riconosciuto a unipol che ha vinto la causa contro il comune di Firenze di realizzare abitazioni per duemila persone comprensive poi dopo di spazi pubblici supermercati e quant'altro per cui credo che in tutto questo dire a Toscana Aeroporti e ENAC preparateci il master plan dell'aeroporto sia fuori discursi sia fuori luogo perché perché proprio la commissione ci ha detto prima dateci il quadro completo dell'area dopodiché secondo dello spazio che c'è disponibile ci rivolgeremo a Toscana Aeroporti per dirci come deve essere fatto l'aeroporto. La notizia di oggi è che l'opposizione si è spaccata su un atto presentato dall'opposizione stessa Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia in ordine sparso con Forza Italia che ha mantenuto la posizione storica attraverso Marco Stella a favore della pista di Peretola, del nuovo orientamento della pista di Peretola. Galli che a parole confermava di essere favorevole ma negli atti in realtà lasciava intendere tutt'altro. Petrucci che ha fatto un intervento direi un po' da primi anni 2000 in cui si metteva in contrapposizione, una contrapposizione che non c'è, lo scalo di Firenze con lo scalo di Pisa. I dati ci dicono altro, i dati ci dicono che il polo toscano composto da Firenze e da Pisa sta facendo segnare livelli pre-Covid o addirittura di più a livello di numero di passeggeri. Allo stesso tempo non ci nascondiamo sotto la sabbia, è necessario su entrambi gli scali effettuare degli investimenti come quelli in programma a partire dalla pista dell'aeroporto fiorentino ma senza dimenticare ovviamente i lavori sui terminal che sono altrettanto importanti perché chiaramente un aeroporto è composto sia appunto da dove decollano gli aerei sia da dove si svolgono tutte quelle procedure che vengono fatte appunto prima di montare sui velicoli. Quindi la notizia di oggi abbiamo di vedere è un centrodestra che in consiglio regionale è totalmente in ordine sparso su un tema che è un tema centrale dell'agenda di governo di questi cinque anni di questa legislatura che era nel programma di mandato e che adesso è in attesa evidentemente di ulteriori sviluppi da parte dei ministeri. Italia Viva rimane il partito favorevole all'ampliamento della pista di Peretola e di Firenze, serve ampliare lo scalo aeroportuale di Firenze, serve migliorare, serve favorire un interscambio con le relazioni compise, serve una relazione internazionale per quanto riguarda la nostra città capoluogo di regione, rimaniamo a favore, convintamente a favore dell'ampliamento della pista di Peretola e dello scalo aeroportuale di Firenze, una discussione che troppe volte ritorna sugli stessi canoni del dibattito in consiglio regionale, noi abbiamo sempre avuto la nostra posizione politica, siamo coerenti con l'ampliamento e con la possibilità di dare alla città di Firenze un nuovo aeroporto. Noi siamo favorevoli all'aeroporto di Firenze, favorevoli al potenziamento di Firenze e all'aeroporto di Pisa. Uno non esclude l'altro, hanno degli obiettivi diversi, il fatto è che ad oggi, non solo non abbiamo, sono 50 anni che parliamo dell'aeroporto di Firenze e l'aeroporto di Firenze è ancora un'incognita, ma negli ultimi dieci anni, questo è l'elemento che vorrei far rilevare, negli ultimi dieci anni abbiamo, PD ha depotenziato sia l'aeroporto di Pisa che l'aeroporto di Firenze. Purtroppo non voglio, in buona parte di questa discussione anche oggi in consiglio, non voglio sentirselo dire perché fanno dei paragoni autocelebrativi come sempre fanno fra di loro, quindi fra l'aeroporto di Pisa e l'aeroporto di Firenze e non hanno una visione esterna, quindi cosa succede nel mondo. L'aeroporto di Pisa e l'aeroporto di Firenze sono stati depotenziati. Noi in Toscana ad oggi se vogliamo avere certezza di partire, se vogliamo avere anche dei voli intercontinentali, usiamo l'aeroporto di un'altra regione, usiamo l'aeroporto di Bologna. Quindi il risultato, perché poi mi piace parlare di risultati, al di là di tutte le argomentazioni politiche, sappiamo che molti sono in campagna elettorale, quindi qualunque dichiarazione viene utilizzata per questo, però quello che mi preme rilevare è che noi ad oggi in Toscana le infrastrutture che vogliono dire semplicemente qualità di vita del cittadino, minor costo, minor tempo, per quanto riguarda l'aeroporto, lasciamo perdere il resto, ma per quanto riguarda l'aeroporto, ad oggi siamo profondamente indietro, sempre peggio, non solo riferimento a 50 anni fa, ma riferimento agli ultimi dieci anni. Ne Pisa, ne Firenze sono aeroporti all'altezza della nostra regione. Nell'ultima seduta del Consiglio regionale è stata anche commemorata la memoria di Giacomo Maccheroni, che fu presidente del Consiglio regionale dall'83 all'87 e scomparso da pochi giorni. Un ricordo di tutta l'aula al quale hanno partecipato il presidente Gianni, insieme al presidente del Consiglio Mazzeo, ma anche alla presenza della vice sindaca di Pontedera, di Michele Quirici, che ha raccolto le memorie di Maccheroni e del figlio Sandro. Ho voluto ricordare il terzo presidente dell'Assemblea legislativa, c'è un filo rosso che unisce il nostro impegno e penso che la memoria, il ricordo, le iniziative sono state messe in campo da Giacomo Maccheroni come presidente dell'Assemblea legislativa meritasse un momento come questo, insieme al figlio Sandro, insieme alla comunità di Pontedera. Noi abbiamo di fronte a noi tante scelte complicate da fare, da portare avanti. Il presidente Maccheroni, anche nelle ultime volte abbiamo avuto modo di poter parlare insieme, mi ha sempre posto due questioni. La prima, cercate di fare in modo che ogni scelta, ogni legge che andate ad approvare sia frutto di ascolto, state tra la gente, uscite dal palazzo. La seconda è l'impegno verso le giovani generazioni, la credibilità della politica, la necessità che le ragazze e ragazzi si sentano protagonisti non solo del domani ma anche dell'oggi. Nell'ultima nostra chiacchierata mi ha proprio detto invitate le scuole a venire nel palazzo, andate nelle scuole, alle ragazze e ragazzi fate capire che esiste buona politica e che la buona politica è fatta dalle persone e quindi per questo ho voluto omaggiare il presidente Maccheroni e salutarlo per l'ultima volta anche nella sua aula che ha presieduto per tanti anni. È stato un grande onore essere qua in rappresentanza dell'amministrazione comunale della città di Ponte d'Era per questo momento di ricordo di Giacomo Maccheroni organizzato dal consiglio regionale della Toscana di cui lui è stato presidente dopo una carriera istituzionale che è partita appunto come sindaco della città di Ponte d'Era. È stato importante perché Giacomo Maccheroni in tutta la sua vita anche fino agli ultimissimi momenti appunto prima della sua scomparsa ha vissuto le istituzioni, la politica con un grandissimo senso civico, non ci ha mai fatto mancare anche come comunità il il suo contributo, la sua presenza, il suo supporto, dandoci e qui oggi come dire è stato ricordato a più riprese, trasmettendoci quei valori della politica come dire reale, quella vicino ai cittadini, le istituzioni che devono mantenere una presenza costante, devono affrontare un lavoro di ascolto costante all'interno delle comunità, nel nostro caso della nostra città, ma appunto è una modalità che ha portato avanti anche poi come presidente del consiglio regionale e come parlamentare successivamente. Io ricordo che questa cosa Babboci la sentiva tantissimo, tant'è che ne parlammo anche così privatamente a pranzo insieme. Io a quel tempo appunto frequentavo l'istituto tecnico per geometri di Pisa e fummo proprio la prima classe, invitò noi e mi ricordo io c'ero già stato perché ogni tanto come ho detto Babbo mi invitava, venivo un giorno stavamo insieme a lui, a questo palazzo bellissimo, poi Firenze, facevo un giro da solo per Firenze e poi non andavo a scuola per un giorno. E quindi questa cosa qui, chi incontra ancora di compagni di classe di allora si ricordano proprio di questa giornata anche perché questo fatto di donare il Pegaso, quindi si sono portati dietro una cosa concreta che hanno conservato e quindi è stata una cosa importante. Mi ricordo ci portò dentro il consiglio la sala del consiglio, il suo ufficio, fece proprio da Cicerone ma lui personalmente gli piaceva tanto stare con i ragazzi e sentire poi anche le impressioni. A margine del consiglio regionale il gruppo di Fratelli d'Italia ha puntato il dito contro la maggioranza su 22 milioni di euro che sarebbero spettati alla Toscana dal piano interpandemico e mai rendicontati dalla regione. Soldi stanziati dalla fine del 2022 ma che ancora non starebbero arrivando perché, spiega il gruppo d'opposizione, la Toscana non avrebbe richiesto queste risorse. Sulla vicenda ha risposto il presidente della commissione sanità Enrico Sostegni. La risposta è abbastanza semplice, questi sono soldi che erano stati distanziati alla fine della pandemia per acquisire, tanto sono soldi per investimenti tolti dall'articolo 20 che da anni il governo, da quando è in carica, non sta più finanziando e sui quali si fanno gli investimenti per la sanità. Sono stati tolti e sono stati messi per, in questo caso, acquisire mascherine e dispositivi che erano fondamentali durante la pandemia. La questione è che quei soldi non tenevano conto dei prezzi dei DPI di questi strumenti durante la pandemia. Nel frattempo il prezzo è crollato e che se noi acquistavamo presidi per tutti quei soldi, 22 milioni, avremmo acquistato una quantità di materiale assolutamente inutile per il sistema. Allora l'assessorato ha chiesto al Ministero se si può usare una parte neanche un milione d'euro per comprare quei dispositivi e il resto usarli per investimenti nel sistema sanitario. Quindi quello che la regione ha fatto ha evitato un grosso spreco che in una fase come questa in cui vi è un bisogno importante di investimenti in sanità sarebbe stato davvero imperdonabile. Sono soldi per gli investimenti, quindi sono soldi che non possono essere spesi per pagare stipendi o per spesa corrente, per farmaceutica, no. Possono essere spesi per investimenti, ma siccome aveva una destinazione vincolata, l'acquisto di DPI e teneva conto di quei prezzi, non può l'assessorato da solo switcharli sull'acquisto, che ne so, di ecografi o di una TAC, ci vuole l'autorizzazione. È quello che l'assessorato ha chiesto al Ministero. È tutto da Cronache e Commenti. Grazie di averci seguito anche questa settimana. Ovviamente torneremo la prossima settimana con una nuova puntata. Il Consiglio regionale si riunirà proprio la prossima settimana nella seduta di martedì e di mercoledì e dunque andremo a conoscere gli argomenti che verranno toccati in questa ultima seduta di ottobre. Arrivederci. Grazie. Grazie.